Bella raga bentornati in questo nuovo video Oggi ragazzi siamo tornati qui su Fortnite Questo sarà un video veloce perché vi farò vedere dove si trova la stella segreta della settimana 7 Cioè di quella sfida di completare 7 settimane diverse Dalla schermata di caricamento, cioè questa, possiamo vedere che c'è una stella disegnata sopra la capsula dello spaccatutto La stella si trova proprio lì sopra, ora vi faccio vedere Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Ovviamente è stato un video così veloce, spero vi sia servito soprattutto, più che piaciuto Lasciate un bel pollicino in su, se siete nuovi iscrivetevi Accendete la campanella raga perché voglio incominciare a fare le live, ve l'ho detto pure nello scorso video Vi ringrazio ancora davvero raga per i 7000 iscritti perché stiamo crescendo davvero tanto Stiamo facendo circa 100-200 iscritti ogni due settimane E vabbè raga, ciao!